ideologico e oggi purtroppo anche quello religioso col germe dalla violenza ci si trova di fronte a fatti e a tragedie che puntano a minare i principi base della nostra convivenza democratica, il confronto, il dibattito, il dialogo. E credo Presidente che, visto che domani sarà il quattordicesimo anniversario dell'ormicidio di Marco Biaggi, non sarebbe stato bello, sarebbe stato dignitoso per quest'Aula lasciar passare questo anniversario senza un ricordo, visto che nell'altro ramo del Senato hanno pensato di fare una commemorazione ufficiale. Credo che sia giusto, sia doveroso lasciare agli atti di questa seduta e di questa Assemblea, in occasione di questo anniversario, il ricordo della storia di Marco Biaggi e di tanti come lui, morti, uccisi da una mano vigliacca del terrorismo italiano di matrice comunista, per aver avuto il coraggio delle proprie idee. Grazie Presidente. Grazie Presidente Baldelli e ovviamente la Presidenza si associa al suo ricordo e al ricordo quindi di Marco Biaggi. Voleva, prego. La ringrazio Presidente per essersi associato. Aggiungo un'altra ragione per cui avevo chiesto la parola per fine seduta, per sollecitare attraverso di lei, Presidente, da parte del Governo la risposta a una interpellanza che ho presentato sulla vicenda dei maxi conguagli dell'energia elettrica, che dovrebbe far seguito a un impegno preso di fronte a questa Assemblea da parte del Governo ormai cinque mesi fa, e ad altri atti di sindacato ispettivo. Mi riferisco a un'interrogazione a risposta orale con cui si chiede conto di quanti siano i cittadini che abbiano dovuto restituire gli 80 euro dati dal Governo Renzi come bonus negli anni passati e sei nuovi atti di sindacato ispettivo che quest'oggi sono stati pubblicati e che riguardano le criticità.